Costruire una Calabria diversa che può dare valori sociali e morali, lo ha detto questa mattina a Verbicaro il ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Carmela Lanzetta, partecipando al convegno Costituzione Legalità Scuola promosso dall'Istituto Scolastico Comprensivo del Borgo Tirrenico, ministro accolto dalla cittadinanza, dal mondo della scuola e dai rappresentanti dell'amministrazione comunale di Verbicaro. Si parte dalla scuola perché è da lì che passa al sapere, la conoscenza. È importante innanzitutto pensare alle aree interne della nostra regione e quindi come occasione di sviluppo e pensare alla buona educazione dei giovanissimi e dei giovani per una Calabria che possa ripartire contando sulle proprie forze. Questi valori sono fondamentali, diciamo che la scuola è l'organo di democrazia e quindi io penso che qualsiasi messaggio parte sia dai docenti, dalle famiglie, dal lavoro rispetto al progetto legalità è sempre importante per costruire un futuro migliore. Amministratori del territorio che hanno ribadito l'importanza dei concetti di legalità e uguaglianza, solo percorrendo queste strade si raggiungono i risultati positivi della vita. Un grande incontro dalla grande importanza. Credo che oggi la scuola sia da ritenere più di prima l'unico presidio di legalità in cui ovviamente io da sindaco propongo e faccio un auspicio che la scuola rimanga settica ai cambiamenti, ai mutamenti che stanno avvenendo nella società. Una società che cambia velocemente, una società che a volte cerca di proporre ai nostri cittadini una realtà camuffata, una realtà che poi realmente non è quella che dovrebbe essere. La mia presenza qui è per ribadire l'impegno mio e della mia amministrazione di portare avanti una battaglia di legalità all'interno del mio comune. Un comune che ha bisogno di uscire dal muro e dal silenzio in cui è stato relegato negli anni.